Noi vediamo che tra lo smart working, la DAD, il commercio digitale, che sono tutti strumenti fondamentali per la competitività sempre, ma in particolare in questo momento di pandemia, di crisi importante, credo che accelerare sulla banda ultralarga significa investire sul futuro, significa dare un segnale forte. Ci sono dei ritardi anche ingiustificabili, è una nostra ragione. Noi dobbiamo colmare i ritardi, colmare il gap infrastrutturale e mettere il nostro territorio al pari con gli altri a livello europeo per far sì che le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri giovani possano competere senza partire da una situazione di svantaggio.